L'ondata di maltempo ha regalato alle montagne ossolane le prime vere nevicate di stagione. Ai 2453 metri della stazione di rilevamento Arpa in Formazza, alle ore 12 di oggi al suolo c'erano 51 centimetri di neve, la metà dei quali caduti nelle ultime 24 ore. 11 centimetri ai 1634 metri del Devero, 15 ai 1740 metri dell'Alpeveglia. 30 centimetri ai 1635 metri del Devero, 15 ai 1740 metri del Devero.